Ciao, oggi è una giornata meravigliosa, il sole splende, la natura sembra trasformata, allora ti dico che questo è il giorno perfetto per crearti nuovi obiettivi e per farlo indosso questa felpa, come puoi vedere è una felpa verde e bianca, perché questa felpa mi ha portato a realizzare grandissimi obiettivi, io adoro correre, a breve ti dirò il mio nuovo obiettivo per l'anno 2021, intanto inizia a creare anche tu, oggi, un tuo nuovo obiettivo, perché quell'obiettivo farà nascere tanto amore dentro di te, per realizzarlo, perché quando l'avrai realizzato sarai soddisfatto. Un abbraccio, a UG!